Dopo il nubifraggio di ieri che si è abbattuto su Pescara e che ha visto l'amministrazione comunale, il sindaco e altre donne e uomini pattugliare letteralmente il territorio, passate la tempesta, sì, ma non per tutti, in particolare per alcuni commercianti di Porta Nuova che, come ci dicono, ormai però ci hanno fatto il callo. Alcuni negozi sono chiusi, in altri si vedono le pulizie, non di Natale, per togliere l'acqua che ha invaso i locali e i più ci tengono a farci vedere la situazione immortalata la sera prima dai telefonini. Sì, è accaduto che praticamente è cominciato ad entrare l'acqua da fuori e da dentro perché le fogne erano otturate, fuori dai tombini che non tiravano più, quindi abbiamo provato a chiedere ai vigili che erano impegnati in una via qui vicino ma ci hanno detto che non avevano né uomini né anche le transenne, quindi abbiamo aperto noi tombini, abbiamo noi chiuso la strada perché come passavano le macchine e le ondate facevano rientrare tutta l'acqua e praticamente quindi siamo rimasti fino alle 21 a cercare di buttare fuori tutta l'acqua che ci rientrava soprattutto da dentro. Sì, purtroppo pensavamo che con questi lavori che tanto hanno sannato si fosse risolto il problema delle fogne a Pescara ma ieri abbiamo avuto la riprova che ciò non è stato. In primis via Le Marconi da qui allo stadio era una piscina, via Pepe idem, in più i tombini dall'inizio, quindi non parlo della fine della giornata ma all'inizio non tiravano niente quindi vuol dire che la manutenzione non è mai stata fatta. Siccome i problemi già ci sono ci mancava appunto la non curanza del comune per i problemi reali che questa città ha da sempre. Questa merceria dovrà restare chiusa per qualche giorno perché è necessario, ci dice, la titolare è dover ripulire un po' il tutto. Ci sono stati danni anche ad alcuni immobili. Insomma in molti ci hanno detto sì alla cura della città e i colori ma bisogna pensare anche ai problemi strutturali. Però entrava l'acqua dal pavimento, dai bagni e poi da via Mazzarino doveva essere bloccata la strada perché è entrata l'acqua dalla strada. Tutti questi soldi che hanno speso per i lavori è qua, dobbiamo fare ogni anno noi sta cosa, cioè io non capisco. Non è colpa del sindaco, lo so, però di chi è la colpa? E a Sintaco abbiamo chiesto qual è oggi la situazione. Ieri è stato uno di quei giorni in cui la città è stata messa a dura prova ed è stato messo a dura prova il sistema di smaltimento delle acque perché in una sola giornata, in 24 ore, sono caduti 122 mm di pioggia quando mediamente in un mese, nel mese di novembre, cadono 73 mm di pioggia, quindi quasi il doppio dell'acqua caduta in tutto il mese di novembre da un punto di vista storico. Alcune situazioni che abbiamo affrontato in questi anni hanno impedito che ci fosse veramente la catastrofe in qualche area perché alcune zone dove due gocce d'acqua creavano problemi sono state critiche soltanto in serata quando erano già caduti 90 mm di acqua. Quindi queste situazioni sono situazioni di crisi che gestiamo con centinaia di uomini per strada.